and down è finito della prima diretta della del primo atle talk di questa stagione questa nuova stagione 2021 2022 siamo pronti vicino a me la novità già la prima novità così la spoiler o su sito mini spoiler di subito subito il direttore è già la nostra novità fantastico grazie e quindi siamo tornati dopo l'estate tra l'altro un direttore ancora abbronzato per poco ancora veramente poco anche perché domani ottobre quindi abbiamo i giochi sono chiusi bisogna tornare in pandan con la stagione dobbiamo tornare bianchi sulle sudate carte più bianchi di più bianche di noi e quindi insomma grandi novità ecco la prima è proprio giulio inter off federico marconi che però insomma che salutiamo salutiamo e che è insomma un caro amico un caro amico di cui a cui facciamo ovviamente tutti i nostri migliori in bocca al lupo per tutti i suoi progetti e i suoi lavori che sono tantissimi sì beh ecco beh un po antipatico ma bravo no perché mi continua a prendere in giro quindi vabbè no ti vogliamo bene fede e quindi questa è la prima novità ma non le novità non sono finite sono molte altre continuano spoiler continuiamo lo spoiler si è proprio la giusta presentazione iniziamo così l'athlet talk le nostre interviste le interviste del martedì verranno inserite all'interno dell'athlet talk quindi nel nostro talk show inseriremo tutti gli atleti personaggi storie da raccontare d'altronde insomma l'atleta sport news è proprio storytelling sportiva e quindi tutte le storie da raccontare le inseriremo all'interno dell'athlet talk ma ovviamente come al solito tutte le storie che che raccontiamo e che racconteremo potrete leggerle sul la nostra testata giornalistica dell'età news punto sport dove troverete le interviste di martina gli articoli di andrea marco i miei nostri insomma tutto quello che che viene fuori da questa da questo contenuto metti in pot esatto si 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 di questo calderone di emozioni e di racconti e sportive sportivi sempre sempre e quindi e quindi li troverete sul nostro sito un'altra novità un'altra novità che poi è una conferma questa la dico io che c'è sempre il rischio presente ogni presente in chat e vabbè perché quella non è una novità è una conferma è una conferma è però è il nostro moderatore nonché cambiare affinché nulla cambi no si diceva in quella frase nel gatto pardo scusami questa mi manca immagino che mi siano un po mancato ok cambiare per non cambiare mai cambiare affinché nulla cambi io sono commossa grazie che prego queste chicche solo solo per voi ovviamente che fortuna va bene grazie grazie giulio per questa fantastica citazione per questa perla invece no in realtà io ho una una novità altro che una novità vera e propria perché siamo su twitch e il nostro canale cambia nome cambia nome in ha già cambiato nome in atleta tv che mi sembra anche più pertinente pertinente esatto e quindi insomma cambia nome cambia nome ma già lo saprete siamo qui però va bene che va detto va detto va bene è giusto perché va detto anche doverosamente che se volete lasciare se volete seguire tutte le format le trasmissioni e tutte le puntate di dell'atletalk con martina procaccini dovrete lasciare il follow al canale atleta tv per ricevere le notifiche per non perdervi nulla ma soprattutto anche concederci la vostra subscription che oltretutto nel mese di settembre anche scontata è una bella notizia soprattutto perché invece la percentuale che giriamo a martina procaccini è rimasta la stessa quindi sapete che dandoci la subscription manterrete in sana e perfetta salute vi ringrazio quindi siate numerosi perché magari così aumenta anche la percentuale vabbè insomma adesso così la butto là ecco bene ogni scusa è buona per... dimmi c'è una giustamente dalla chat fanno notare un'altra un'altra novità perché mario mario il figo che è uno dei nostri affezionados... affizionados... affizionados... eh scusate... ok e beh perché il gioco lo è spagnolo e ci chiede chi sia l'uomo l'uomo... ah pensavo l'uomo io scusami ma fa così con questo dito io no è vero pure a me stava mettendo un po' di inquietudine effettivamente lui è il nostro capultras praticamente posso metterlo un attimo vicino a me per farlo vedere bene... lui si chiama lui si chiama giovanni giorgio che però tutti chiamano giorgio ha un sorriso un po' beffardo si ha il sorriso malandrino proprio del dell'ultra se fuori no esatto dello stata dello stadia rolo come questo lo sono inventato io... curvarolo 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 che porta sul sulla fronte le insegne di atleta e sport la squadra di league of legend ecco io voglio dire una cosa che allora io sono la ultras cioè sono la sua degna compagna della gruppi sono la gruppi perché guardate che ho anch'io la la sciarpona la sciarpona che già sventola negli stati questo questo ha detto puoi in testa non me la metto però ecco ma fa troppo caldo dai diciamo che proprio non si fa possiamo anche rimettere giorgio alla sua postazione perché fuori dal fuori dal cubicolo fa anche insomma un po' effetto si devo dirti è abbastanza ingombrante come personaggio di personalità e di stazza soprattutto è stato bellissimo ordinare su su amazon una testa non mi era mai capitato si può dire amazon perché siamo su twitch si può dire amazon che abbiamo ordinato una testa su amazon che testa di polistirolo questo è un battutone clippate questa cosa per favore comunque il sorriso mandrino di giorgio giovanni giustamente e atleta e sport e qua chiudiamo la parentesi delle novità atleta e sport che potrete vedere già in azione seguire in azione già da domani perché l'academy di atleta e sport perché mica una ne abbiamo fatta no noi facciamo sempre le cose in grande perché sennò che marzo fa da letto no 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 e due squadre di cui l'academy inizierà a giocare proprio domani quindi personalmente i nostri il nostro augurio l'in bocca al lupo merda si dice nel nello spettacolo si può dire anche su twitch però da domani porta bene insomma in bocca al lupo li vedrete li vedrete in azione bene bene ci siamo la parentesi novità è chiusa insomma sono abbastanza e poi chissà magari entrambi visto che già entrambi e invece devo dire il corso di no chissà che non ne arrivino altre non ne arriveranno non arriveranno altre perché poi non cambiare per cambiare per non cambiare mai ecco giusto giustamente ci città la città 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 insieme che ha detto ci cita la citazione corretta ok grazie grazie andremo a controllare quindi però adesso direi di parlare di cose serie va bene le novità fantastiche tanto le vedrete perché ci dovete seguire e dovete proprio essere in tanti quindi le vedrete rimarrete sempre aggiornati ora uno sguardo un attimino dove ci eravamo lasciati ovviamente sì perché ci eravamo lasciati che era estate innanzitutto già era che era estate si andava al mare questo già ci rendeva più allegri però in realtà ci rendeva più allegri i fantastici trionfi della nostra italia europei che a cui abbiamo dedicato tantissimi talk le olimpiadi dove abbiamo proprio trionfato alla grande battuto record record mondiale mi torna la pelle d'oca solo a ripensare a certe a quelle a quelle immagini a quelle a quei festeggiamenti veramente momenti di grandissimo di grandissimo sport di grandissimo orgoglio nazionale diciamolo e che diamine it's coming romano scusate non dobbiamo essere scusate e quindi insomma grandi momenti di sport per la palla a volo quindi mondiali mondiali europei vinti insomma da tutti i punti di vista addirittura tamberi la diamond league quindi non contento delle olimpiadi anche quello adesso è primo nel ranking mondiale quindi proprio definito il numero uno del mondo in tutti i sensi insomma c'è qualcos'altro nessuno può nessuno può negarlo quello assolutamente quindi insomma è stata una grande estate una grande estate le paralimpiadi anche perché perché non non abbiamo parlato perché è stata è stato il nostro stop diciamo anche noi siamo andati un po al mare il direttore si è fatto da degno direttore un mese di vacanza capito di soldoni zero proprio due settimane così insomma comunque comunque sono a buttare via no no ma ora 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 colato d'altronde dovevo affrontare un'intera stagione con martina progacini una stagione già affrontata con martina se l'è meritata e strameritate veramente e quindi insomma vacanze tutto quanto le paralimpiadi però anche hanno regalato grandissime soddisfazioni direi grandissime emozioni grandissime soddisfazioni oltretutto le paralimpiadi l'ambiente paralimpico che abbiamo seguito da sempre insomma dalla nascita un po di abbiamo parlato tanto spesso e molto volentieri di atleti paralimpici con atleti paralimpici e piace bene definire scusami se ti interrompo anzi definire la non distinzione tra atleti paralimpici e atleti olimpici o tra paralimpiadi e olimpiadi poi effettivamente c'è questa distinzione formale però a noi non piace dare un po questo timbro no non ci piace nel senso che non ci piace darla in maniera che si metta uno sopra l'altro sì in un'accezione di diversità insomma zero diversità anzi ci piace ci piace la frase dare spazio alla tenacia a proposito di tenacia mi viene in mente i giovani tenaci giovani e tenaci che era la è stata la prima squadra di basket in carrozzina che siamo andati a trovare nome omen esatto allenata da dai grande stefano che parte che saluto e ringrazierò sempre perché ci ha fatto conoscere lui in primis la bellezza dello sport paralimpico che diceva una cosa importante le olimpiadi sono il momento in cui nascono gli eroi un po dello sport le paralimpiadi sono quel momento in cui gli eroi dove vanno gli eroi dello sport ok bellissimo quindi è una definizione che ci piace e rispecchia perfettamente il clima anche esatto che vogliamo paralimpico e quindi che anche noi poi vogliamo trasmettere e infatti proprio per questo motivo noi intervistammo poco prima dell'estate ora non ricordo precisamente forse verso luglio proprio se non erro eh sì perché erano già in corso le olimpiadi ma doveva iniziare appunto la sua disciplina la sua disciplina Roberto Bagnoli che è allenatore oltre che arrampicatore proprio lui è anche allenatore allenatore di chi? allenatore di Nadia Bredice che è un'arrampicatrice ipovedente e quindi insomma un'atleta paralimpica però mentre Roberto ci raccontò che l'arrampicata è stata introdotta per la prima volta quest'anno nelle olimpiadi questo non è avvenuto nelle paralimpiadi quindi l'arrampicata non è stata inserita nelle paralimpiadi ma noi abbiamo intervistato Nadia, Nadia Bredice che però ha vinto il bronzo proprio da poco ai mondiali di Mosca 2021 l'ha intervistata per noi Andrea Buzzao sì sì andremo a sentire l'intervista di Andrea che poi insomma ci dirà la sua è bello diciamo mostrare questo altro lato perché mentre tante persone si sono potute avvicinare all'arrampicata grazie alle olimpiadi si sa che le olimpiadi sono l'evento in cui lo sport anche un po' si mette in mostra in qualche modo e quindi c'è sorta la domanda insomma perché non andare a vedere a conoscere anche il paraclimbing così viene definito e quindi giustamente il buon vischio ha preso i due elementi come dicevi tu lo sport che ha esordito anche tra quelli di più successo tra gli esordenti alle olimpiadi di Tokyo e è andato a scovare proprio Nadia Bredice e quindi vediamo l'intervista con Nadia Bredice, Roberto Bagnoli e Andrea Buzzao buongiorno innanzitutto e ben trovati grazie per essere qui con noi spero che vada tutto bene innanzitutto io avevo una domanda per Nadia proprio per partire so che allora innanzitutto so che ti sei qualificata terza dei mondiali eh sì qualificata e sono salita sul podio terza dei mondiali com'è stata questa questa vittoria che che soddisfazioni ti ha portato guarda è una domanda che mi hanno anche fatto anche un po' di amici no com'è stato il momento della premiazione io il momento della premiazione non capivo assolutamente niente onestamente io ho finito la gara ho finito la salita e sono scesa mi sono accorta poi è venuta ad abbracciarmi la mia guida e lì ho detto ma mi sa che male male non sono andata quando mi ha abbracciato però da lì in poi ho avuto un po' di una buona mezz'ora di non capivo assolutamente niente però tra il contenta il non altro mondo devo essere sincera con calma mi sono resa conto che 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 effettivamente niente che effettivamente ero riuscita ad arrivare al podio cosa che non era assolutamente prevista effettivamente era un bel momento sicuramente porca miseria no no bellissimo quello indubbiamente però sicuramente totalmente inaspettato e eh sì 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 è stato ci ho messo un pochino per realizzarlo sono andata un po' a un diesel sono accorta un po' più tardi onestamente senti ma invece parlando del della scalata in generale quando e come ti sei approcciata a questo sport mi sono approcciata come tante cose della vita a caso sono andata un giorno da un amico dai ma prova facciamo questa era una parete sintetica ovviamente era una palestra tra l'altro qui ad arezzo dove sto e ho provato ho detto ma carino sto questa cosina ma carina poi ho fatto il corso base e da lì piano piano sono andata in avanti passo dopo passo scalando si è arrivato si è arrivato in cima ma hai parlato prima del della guida e adesso a me chiede a me viene una curiosità come come funziona perché probabilmente la curiosità che viene più o meno a tutti cioè la scalata il paraclimbing che differenze hai in un certo senso dal dalla scalata normale allora ovviamente nel paraclimbing siamo tante categorie questo dipende da può essere o una disabilità opposiva o amputazioni oppure anche a neuromuscolari quindi diciamo ci sono varie tipologie per quanto riguarda i disabili visivi ovviamente una guida ti serve perché una guida ti dà la direzione dove devi prendere le prese quindi con una segnalazione un po tipo orologio perché poi ogni con ogni guida si cerca di trovare il linguaggio più veloce più pratico anche quindi non so la mano sinistra ore 1 oppure ore 3 piede destro altezza del ginocchio si possono utilizzare sia l'orologio sia parti del corpo imponendo che comunque il centro dell'orologio è la testa del chi scala di chi scala cioè in questo caso sì e mentre per roberto che ti abbiamo già avuto qui ospite la domanda sta per quanto riguarda le differenze invece di allenamento perché tu alleni sia climber che paraclimber quindi quali sono le ovviamente le differenze sostanziali quelle meno ovvie beh diciamo alla fine sotto certi aspetti sono sono simili uguali che è chiaro che poi sul campo faccio anche da guida ovviamente quindi vuol dire nel caso specifico ovviamente dei percorsi delle e di nadia è un lavoro lavoro leggermente diverso ovviamente perché perché comporta scegliere appunto in palestra dei percorsi percorsi adatti salibili anche anche da lei ma non per in differenti capacità c'è da fare un ragionamento io la seguo una palestra buddha quindi dove non abbiamo la corda e quindi l'unica attività che possiamo fare sono dei percorsi di un certo numero di movimenti che vanno a replicare la lunghezza di una ipotetica via ma dove lei sostanzialmente rimane a massimo un metro da terra con i piedi per un certo tempo oppure oppure dei boulder veri e propri quindi è un'attività che lei ha scoperto cioè che gli ho fatto scoprire da poco perché è sempre abituata a andare con la corda in sicurezza ma mai invece o quasi mai insomma senza e la difficoltà grossa e lì viene insomma la difficoltà sostanziale rispetto a una pressione che riesce a vedere che a un certo punto se vai a affrontare un bull di una certa difficoltà può darsi che tu possa cadere certo e questa caduta è un è stato diciamo un po un limite all'inizio ora sembra insomma riesce a affrontarla perché lanciarsi nel vuoto senza avere riferimenti non è banale e bene diciamo siamo riusciti sicuramente con questo approccio a ampliare tanto anche il bagaglio di movimenti di sensazione insomma tutto quello che serve poi per per avere le cartucce da sparare quando sei quando sei su una parete e anche perché insomma gli appigli poi te le trova durante nelle vie di gara spesso sono più simili a quelle che usiamo nelle palestre ulti piuttosto che nelle vie in cui uno si può allenare nelle palestre di corda e insomma questo questo piccolo percorso penso abbia aggiunto un qualcosa e insomma comunque è sempre un'esperienza quindi noi andiamo avanti a questo punto direi che la strada è anche abbastanza percorribile da quanto dimostrato dai risultati almeno indubbiamente mi ha fatto amare il bulber io prima per me il bulber era oddio oddio più di un tot non riesco a salire perché ho paura di cadere perché appunto come ha detto lui per me la percezione è non ho idea se sto cadendo da 20 cm o da 5 metri e quindi a potrebbe essere un vantaggio ogni tanto non saprei se è un vantaggio perché insomma avere un minimo di idea come cadi non è male invece se lavorato su piano cadi sempre più in alto sempre più in alto un po più di confidenza effettivamente il lavoro di percezione di nuove prese perché poi al crazy alla palestra dove lavoriamo c'è una una buonissima quantità e qualità di prese quindi ovviamente c'è la possibilità di studiare molto se la presa l'equilibrio che si trasforma e si sposta secondo la presa che hai a me fa tantissimo cioè percezione del corpo ampliata per me all'ennesima potenza scoperto tante cose che se no probabilmente non avrei scoperto hai scoperto un nuovo mondo che comunque se ti è piaciuto scoprire madonna sono la fine sono esperienze tattili no che che uno acquisisce e di conseguenza da queste esperienze sensoriali poi dopo passi all'esperienza di movimento di percezione del corpo di equilibrio e quindi credo abbia abbia fatto tanto anche questo passare diciamo da una attività che non è proprio una replica del della gara perché comunque le categorie paraclime delle tre discipline dell'era applicata alla fine fanno solo lead perché così in tal modo sono sempre in sicurezza con la cobertà certo che li tiene invece il butter ampia un po ecco queste questa conoscenza di movimenti di esperienze non solo poi abbiamo fatto anche altri lavori diciamo fuori dalla parete sull'equilibrio insomma abbiamo iniziato l'anno scorso siamo all'inizio nadia certo e iniziamo dal bronzo l'anno prossimo ci siamo e quali sono alla fine i progetti per l'anno a venire i progetti progetti le gare da affrontare vabbè le gare allora i mondiali non ci sono cioè ci sono una volta di due anni quindi prossimo non ci saranno avremo sicuramente il campionato italiano e le varie coppie del mondo che ci saranno ma i progetti e progetti per le gare non lo so facciamo che per le gare perché io cerco di mettere meno ansia possibile quindi uno va sperando di fare il miglior risultato possibile ma non per il piazzamento almeno io sono contenta se riesco a dire ok io più di questo non potevo fare quindi scendo la via perché più di lì non potevo arrivare ok va bene quindi va bene così progetti più che altro anche sulla roccia mi piacerebbe perché comunque per me nel senso ok siamo arrivati a questo punto questo piccolo traguardo ma voglio sempre di più progredire perché è uno sport che veramente mi appassiona tantissimo e quindi migliorare sempre di più esplorare sempre più rocce sempre più percorsi particolari e ovviamente anche le gare perché le gare ci sono è un continuo a battere limiti alla fine è odio hai scoperto un mondo nuovo adesso perché non approcciarsi a un altro senti per me invece la domanda è hai parlato di competizione parlato di gare l'altra volta roberto ci raccontava come prima di una gara si è fatto lo studio della parete cioè si vede un po il percorso come si fa ad alzare e a salire in questo caso come avviene lo studio della parete avviene prima avviene dopo in che modo avviene viene descritta semplicemente no c'è la visualizzazione della della via ovviamente la fa la guida perché io posso visualizzare e per esempio per la finale per la finale dei mondiali è stata una visualizzazione di sei minuti fanno vedere c'era un video dove veniva proiettata una persona che ovviamente la dimostrava quindi la dimostrazione della via e avevi la guida con quelle guide avevano quei tot minuti per memorizzarla al miglior tempo in miglior modo possibile e basta fine quindi magari durante sì totalmente la riuscita di una via e per me è un lavoro quasi a metà praticamente se non praticamente a metà perché ovviamente la guida deve saper leggerla bene e io devo riuscire a tradurre movimenti quello che lei mi dice deve saperla raccontare nel modo giusto tra l'altro esattamente esattamente quindi la visualizza poi magari dei passaggi chiave mi prende muove le mani secondo guarda allora ti a un certo punto ci sarà metti una tacchettina così poi una pinzata allora da quella pinzata così poi ci sarà un movimento di fare un incrocio grande anche magari tendenzialmente nei punti almeno io ti ti racconto come come lavoro con lei con che la saluto si chiama sonia sonia cipriani e nei momenti diciamo nelle parti clou nei parti più difficili ovviamente c'è un focus particolare però hai poco tempo quindi diciamo il io la lascio fare lascio che lei si memorizzi più possibile e poi si va senti sei stata parte con il terzo posto al mondiale adesso facciamo un po di patriottismo del splendido anno sportivo italiano alla fine le olimpiadi hanno segnato un record le paralimpiadi anche hanno segnato il secondo record della storia perché 69 medaglie non si sono mai viste però nelle paralimpiadi mancava il paraclimbing quali sono le cose che mancano invece al paraclimbing per entrare a far parte delle paralimpiadi cioè perché non ci sono? oddio questo è un discorso un po ampio allora credo che comunque la federazione internazionale stia lavorando in tal senso no non credo sta lavorando in tal senso per l'obiettivo del 2028 di entrare come come paralimpici e sperare che appunto riusciamo ad arrivare in quella data credo che ci sia da fare magari una struttura di regolamenti di non mi sbilancio molto su questo penso che ci sia un lavoro da fare appunto sulla regolamentazione di tante categorie perché ovviamente siamo tanti ovviamente le medaglie andranno probabilmente diminuite ci saranno tanti accorgimenti da fare penso che ci sia appunto un lavoro di regolamentazione da fare non mi sbilancio più di questo quindi non parigi ma 2028 purtroppo sì purtroppo sì porca miseria beh ce lo possiamo mettere come obiettivo anche quello? no ho scontato quello assolutamente sì quello è l'obiettivo assolutamente sì da una parte anche bene perché vuol dire che c'è un po' più tempo per allenarsi meglio Roberto tu invece ti senti pronto a portarla alle... dove vuole, dove vuole dove vuole andare? con guida senti invece noi abbiamo visto dai video che ci hai mandato che durante gli allenamenti ovviamente c'è la presenza di un cane e adesso a me questa cosa ha incuriosito particolarmente perché ovviamente un cane guida serve ma... in quel momento non serve a niente in quel momento quanto serve? no in quel momento assolutamente a nulla esatto anzi no no è buffissimo è buffissimo ve lo posso assicurare è buffo poi buffo perché si mette sempre sotto proprio nel punto dove Nadia potrebbe cadere quindi c'è proprio d'aiuto ecco no in realtà non serve in realtà lui è lì perché perché è così lui diciamo è molto molto appiccicoso nei miei confronti è un po' una... abbiamo un rapporto abbastanza simbiotico io dove mi sposto io dove viene lui quindi e quindi che faccio arrampico vado su e io sto... beh certo caldi io sto là sotto ancora non gli sono cascata addosso incredibilmente è buffo quando vai su corda e chiaramente l'assicuratore ti cala giù e vedi sto cane che parte e si mette sotto e Nadia scenda e salta cercando di afferrarla per portarla giù sì 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 ma infatti in questo momento è qui accanto a me non è tanto lontano e noi lo salutiamo ovviamente sì magari puoi fare anche due domande a lui perché ormai esatto è qui che sarà l'ora a volte vabbè ma se vuole intervenire è liberissimo non ci facciamo di questi problemi assolutamente senti e le avversarie che hai affrontato invece durante la tua competizione che cosa pensi quelle poche insomma che ti hanno superato che cosa pensi che abbiano avuto in più di te? oh wow allora sicuramente sono state bravissime entrambe allora del sicuro c'è una è anche un grande stipolo perché c'è un atleta in particolare che ha 53 anni che è arrivato a seconda ed è bravissima lì è proprio l'esempio di come è uno sport che si può fare veramente ad alti livelli anche molto più in là del tempo esperienza tecnica è tanta roba in più sicuramente è questo questo può succedere secondo me sì ma sì sono state obiettivamente più brave io non posso dire nient'altro non è che non è che siano state così tante le persone più brave di te quindi voglio dire qualcosa di cui vantarsi ce la troviamo va bene va bene va bene Roberto invece il tuo rapporto con con gli altri allenatori che ti hanno visto anzi con gli allenatori che hai visto dietro e con gli allenatori che hai visto davanti che come pensi di cioè come ti approcci al loro metodo di allenamento se lo trovi una fonte di ispirazione se la trovi no beh non ti dico subito non li conosco non so chi siano non abbiamo nessun tipo di rapporto quindi non so che dirti a questo proposito facciamo diciamo allora parliamo in generale di metodi di allenamento come metodo di allenamento ci sono filosofie diverse o c'è sempre uno standard un tipo di allenamento standard che si vuole eseguire beh dipende dipende tanto dall'atleta nel caso di Nadia devo dire che l'ho conosciuta qualche anno fa quando veniva la palestra a Firenze e aveva iniziato da pochissimo per Nadia penso da un anno e non la seguivo neanche io insomma veniva perché parliamo della parete di corda quindi a lenti che stava salire con la corda e beh insomma dopodiché va come sempre insomma va tutto un po' organizzato e strutturato ovviamente compatibilmente con quelle che sono poi le possibilità le strutture purtroppo qua non abbiamo moltissimo per poter come dire avere una struttura ideale non ce ne sono e quindi cerchiamo di fare il massimo possibile con quelle che sono le nostre possibilità manca una struttura per salire con la corda quindi proprio per allenare in maniera specifica quello per cui lei va poi a gareggiare c'è la roccia è vero che quindi Nadia più o meno settimanalmente meteo permettendo ovviamente va a praticare fuori su roccia non è proprio la stessa cosa però però comunque è meglio meglio di niente e comunque è una grande grande esperienza anche quella lì comunque anche la roccia fa tanto perché comunque puoi cambiare il posto puoi cambiare sceglierti le vie quindi vuol dire ogni percorso fuori le sue caratteristiche quindi insomma sono esperienze in questo momento è importante farci esperienza di tante cose diverse e poi noi cerchiamo in palestra quindi in una sala bulla di fare quello è possibile fare con gli strumenti che abbiamo a disposizione lavorando su quelli che sono attualmente diciamo le cose principalmente da migliorare e quindi si costruisce così si costruisce in questo modo poi con il lavoro lei può fare a casa con i mini strumenti di casa no aspetta un attimo il lavoro che può fare a casa in che senso anche a casa perché noi ci vediamo settimanalmente ma una volta a settimana e quindi perché io sto a Firenze la palestra è a Prato e lei sta a Arezzo quindi non è proprio semplice la cosa e quindi a casa integra con il suo strumento che sono i classici travi da rampicata cioè quelli come si quelli oggetti da arredo che però servono per attaccarsi e allenare in vita in poche parole però una cassa banca è un comodino in pratica però attaccato possibilmente in alto esatto sopra la porta esattamente e con quello riesce un po' a integrare perché anche lì dove dove abitano c'è moltissimo e quindi insomma è un po' diciamo una situazione da arrangiarsi il lavoro importante diciamo il lavoro fatto sia il lavoro di qualità che porti dei benefici ovviamente se fosse possibile vedersi tre volte a settimana sarebbe un po' meglio però ci si fa e quindi e quindi si fa così sicuramente è un tipo di lavoro che comunque ha portato a tante gioie tante soddisfazioni anche anche secondo me il fatto che Nadia si stia appassionando a diverse discipline a diversi nuovi modi di approcciarsi allo sport è comunque un'enorme soddisfazione anch'essa sì 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 e infatti io qui volevo volevo sapere una cosa perché prima mi ce l'hai parlato di roccia ce l'hai parlata anche adesso immagino che oltre ad essere uno sport quasi completamente diverso sia anche un approccio completamente diverso come funziona invece per quanto riguarda la roccia è free climbing non è free climbing come in che senso free climbing no 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 cioè la corda c'è in che senso il free climbing no nel senso cambia solo cambia solo diciamo il materiale che hai sotto le mani sostanzialmente esatto in un caso è in un caso è la roccia nell'altro caso invece sono materiali artificiali esatto e l'unica differenza è questa ecco sì sì e e nella roccia io mi devo arrangiare molto di più perché se più o meno nella nelle pareti artificiali comunque le direzioni mi vengono date più o meno in modo preciso nella roccia assolutamente no cioè anche le dipende con chi sono però tendenzialmente è un va Nadia guarda provala verso la destra toccala qualcosa c'è no forse no rispostati a sinistra quindi per me lì è vai vai tocca vai arrangiati tu vai poi perché succede esatto poi vabbè ci sono anche dei momenti in cui magari ci sono dei passaggi un attimino più obbligati allora lì per forza c'è qualcuno da sotto che la conosce allora mi dà delle indicazioni precisissime ma tendenzialmente molto raro beh c'è una sostanziale differenza che mentre nelle pareti artificiali gli appigli sono sempre sporgenti e quindi come vai con la mano diciamo ispezioni la parete con la mano a un certo punto trovi una sporgenza quindi quella è l'appiglio nella roccia spesso sono invece dentro sia sporgenti ma anche dentro la parete quindi diventa e anche la scelta dei piedi non è così semplice come la parete artificiale quindi direi sostanziali differenze capito io vi ringrazio innanzitutto per avermi fatto conoscere un mondo del quale ero completamente ignaro grazie per avermi raccontato le vostre storie grazie sicuramente per il vostro tempo e niente vi vi rimando alla prossima volta grazie ancora per le vostre io non ho altre domande per questo infatti un'ora sono rimasta ah ok fatto è stato velocissimo perciò grazie ancora e spero di potervi sentire ancora una volta grazie a voi in bocca al lupo per i vostri progetti futuri grazie arriva al lupo alla prossima alla prossima ciao che bello che bello che bello la positività dello sport la bellezza dello sport è quello che quello che ci emoziona sempre devo dire che è quello che ci porta ad accendere le telecamere le telecamere ogni volta la testimonianza di Nadia è emblematica in questo preparando allora un dietro le quinte insomma mentre Vischio nel frattempo esplicita di in chat così magari le telecamere le telecamere esplicita ti hai ripreso Vischio? no no Mario il figo che è sempre un figo è sempre un pezzo esatto no dicevo preparando l'intervista le devo dire che quelle classiche interviste in cui le domande vengono un po' da sole perché semplicemente sono le le tue curiosità da la persona che non solo non pratica quello quello sport magari quella disciplina ma che fisicamente non non può entrare in delle potenzialità diverse per esatto e quindi le domande sorgono sorgono spontanee quindi come come fai come fai a trovare la via come fai a trovare la presa giusta come fai durante una gara a preparare la gara infatti come dicevi tu come poi diceva anche Andrea nell'intervista Roberto ci ci spiegò come durante le gare gli atleti arrivano prima alla parete la 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 osservano la studiano la studiano anche insieme agli agli avversari e poi invece c'hai l'esempio di un di un atleta ceca ceco ma Roberto infatti ci insegnava proprio quanto e come l'osservazione sia un aspetto uno step fondamentale dell'arrampicata e quindi proprio in virtù di questo l'osservazione come quasi chiave per arrampicare fare amicizia con una parete e allora come fa Nadia e ci ha spiegato appunto cioè alla fine poi le risposte quando dicevi le domande sorgono spontanee poi le risposte invece rompono il muro della diversità cioè ci spiegano e ci avvicinano togliendo quel muro ci avvicinano ci avvicinano e ci uniscono e la diversità non esiste più perché perché ci ha spiegato che laddove non si può osservare la parete la si può toccare cioè ovviamente l'allenatore che a quel punto diventa i suoi i suoi occhi i loro occhi in questo caso di Nadia e quindi li guida gli raccontano la parete e poi con il tatto insomma anche le prese vengono definite proprio su dei criteri di tatto quindi ci saranno proprio appunto delle definizioni eccetera come ci raccontava quindi è pazzesco veramente è pazzesco è pazzesco infatti Vischio giustamente che poi ha guidato ha condotto questa intervista e poi l'intervistatore è sempre la prima persona che raccoglie un po' le emozioni che si traggono da un'intervista ce lo sottolinea quelle erano curiosità da ignorante giustamente perché appunto ci si mette nella condizione di scoprire cose che non si possono non si possono sapere però è sempre bello conoscere un mondo pieno di gente coraggiosa che mette la passione davanti a ogni ostacolo possibile dopodiché il poeta giustamente aggiunge la chiosa Nadia poi gli ostacoli ha imparato ha imparato a scalarli anziché superarli ma questo è un po' la chiave dello sport paralimpico cioè rendersi conto essere perfettamente consapevoli di avere se non un ostacolo una limitazione una difficoltà in più e semplicemente trovare il modo studiare il modo allenarsi per trovare il modo di superare quella difficoltà e questo penso che sia non solo la chiave dello sport in generale perché lo sport è superare i propri i propri limiti figuriamoci nello sport paralimpico dove il limite è proprio la chiave proprio la chiave insita insita nella disciplina insomma lo sport poi alla fine ritorniamo e ritorniamo sempre a quello lo sport e noi vabbè per chi voglia arrivare stiamo facendo un collegamento stavo dicendo un po' una come possiamo dire un'obvietà che lo sport ci unisce perché appunto toglie come diciamo ho usato questa metafora del muro ci sono uniti quest'estate l'abbiamo visto ci sono uniti quest'estate ma ci unisce anche con con coloro con i quali ci vogliono mettere una distanza una differenza non ci sono questa intervista ce lo insegna tutte le interviste agli atleti paralimpici ce lo insegnano lo sport unisce ce lo insegna infatti l'atleta era presente anche ad un evento particolare e qui mi voglio proprio piombare su questo su questo evento link link esatto sull'evento dove siamo stati presenti il 19 settembre sì che è lo sport city day organizzato dall'associazione sport city di cui fabio pagliara è presidente e insomma una giornata in cui lo sport è il protagonista una giornata in cui lo sport diventa protagonista nelle aree verdi delle città è stato era un evento capillarizzato in tutta Italia Catania Roma insomma in tantissime città noi eravamo chiaramente l'evento di Roma nella fantastica Villa Panfili che scusate mi esce sempre il campanilismo purtroppo questo è il mio limite ognuno ha i propri limiti il mio limite è questo Villa Panfili nel cuore di Monteverde uno dei quartieri più belli di Roma chi non ci fosse stato a Roma Monteverde il top del top comunque adesso a parte gli scherzi ecco noi siamo stati a Villa Panfili dove ci sono stati tantissimi sport e Villa Panfili quindi un'area verde all'aperto ecco state vedendo le immagini c'erano tantissimi sport il Nordic Walking il Touch Rugby quindi diciamo anche degli sport che sono delle alternative agli sport primari se vogliamo chiamarli così perché? perché il Touch Rugby non è il rugby come lo conosciamo ha delle caratteristiche quindi è stato anche una scoperta è un modo di diffondere queste nuove forme anche di sport esistenti come appunto il rugby o poi vabbè c'era l'hockey sul prato il Nordic Walking che io ho scoperto abbiamo fatto tantissime interviste la pallavolo e perché? perché fondamentalmente l'obiettivo di questo evento era promuovere lo sport come benessere cioè lo sport come veramente per tutti lo sport come fruibile da tutti e ovunque soprattutto esatto lo scopo lo scopo è soprattutto soprattutto quello veniamo ce lo ripetiamo ogni volta ma è anche giusto ripeterlo perché veniamo da un periodo in cui non solo la pratica sportiva è stata fortemente limitata per tanti motivi ma anche l'accesso stesso alle città ai parchi alle strade è stato spesso limitato durante questi due anni per ancora ovvi motivi che sappiamo tutti lo sport city day è stato proprio un evento e per questo abbiamo sposato fin da subito il progetto quando poi ci hanno chiesto di intervenire come media partner lo sport city day ha proprio questo scopo dimostrare agli utenti agli sportivi ai cittadini ma anche alle istituzioni anche forse in primis alle istituzioni che proprio le nostre città i parchi le piazze ma anche i anche i centri sportivi insomma l'aperto gli stadi possono essere un luogo dove le persone possono fare sport fare sport anche di diversi livelli perché come dice anche proprio il presidente Pagliara nella parola sport ci mettiamo dentro tutto ci mettiamo il professionismo e il non esatto ci mettiamo chi fa i suoi diecimila passi al giorno ci mettiamo Jacobs per esempio ci mettiamo Nadia io credo che tu hai citato un po' ecco il discorso di pandemia lockdown eccetera però ecco alla fine ne stiamo uscendo possiamo dirlo perché dobbiamo anche dare dei messaggi positivi perché se no si parla sempre di pandemia oddio negativo no adesso ne stiamo uscendo quindi possiamo dare anche notizie positive però di fatto qualcosa ovviamente ha cambiato tra cui secondo me anche l'approccio allo sport lo sport secondo me con il lockdown soprattutto con il primo lockdown è diventato proprio per tutti ma con un concetto diverso proprio di benessere di miglioramento della qualità della vita quindi non solo di performance fisica o di appunto professionismo o di mantenimento della linea ognuno aveva un obiettivo no chi il professionismo chi mantenere la linea chi lo sfogo per esempio una corsetta a fine giornata no secondo me adesso ci è arrivato di più il concetto di sport come benessere fisico ma anche mentale e quindi come miglioramento in generale della qualità della vita e secondo me no anzi senza secondo me l'obiettivo forse di questo evento era proprio veicolare questo messaggio quindi noi non potevamo che abbracciare con grande entusiasmo questa partnership con lo Sport City Day di cui abbiamo intervistato appunto il presidente dell'associazione che l'ha organizzato Fabio Pagliara possiamo vederla? se dalla regia ci fanno i segni di ok sì perché no ma se il direttore tu ve lo chiede ma sì grazie grazie confermare il mio ruolo Fabio Pagliara sta arrivando non era quello Fabio Pagliara me lo ricordavo più con un rosio esatto più che blu ok facciamo come i mentana della situazione quindi diamo avanti un po' il tempo ma certo il bello della diretta devo dire che poi Fabio Pagliara Fabio Pagliara infatti ha detto ci mette grande entusiasmo e trasmette proprio quello che è il suo spirito e lo spirito lo spirito di questo evento e tu hai fatto qualche sport quel giorno? no sei stato sempre eseduto su Qua serie no perché avevo delle interviste da organizzare da dirigere ah pensavo da fare no no perché l'ho fatta io vediamo 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 abbiamo con noi Fabio Pagliara che è il presidente di Sport City oggi è lo Sport City Day ecco che importanza che messaggio vogliamo veicolare ne parlavamo anche con l'assessora no? beh il messaggio qual è la mission? il messaggio è quello di una rivoluzione dolce sorridente che piace alle persone perché vogliono star bene la gente credo che voglia questo stamattina l'istituto Piepoli ci diceva che il 92% degli italiani pensa che fare sport rende più felici quindi è una cosa una cosa bella e oggi è una scommessa che stiamo vincendo sono veramente contento emozionato 19 città italiane un sacco di amici assessori non assessori gente quasi che va nelle piazze va nelle nei parchi va nei lunghi fiumi a fare questo piccolo miracolo che non è soltanto fare sport ma dimostrare che in Italia con la passione possiamo fare tante cose quindi oggi è una bellissima giornata secondo me proprio per lo sport italiano in qualche modo sia perché abbiamo avuto questi patrocini questa vicinanza da parte di tutti di Michele Sciscio di Giovanni Malagò di Andrea Bò di Duca Pancalli insomma davvero di Vito Cotro insomma di tutti quanti e tutto questo ci fa capire che effettivamente stiamo andando verso questa dimensione la gente le città possono essere migliori facendo sport quindi nella ricerca del benessere oggi stiamo festeggiando questo sì molto importante infatti perché si pensa lo sport è benessere fisico mantenimento della linea invece no mantenimento proprio del benessere mentale sì sì è la testa è il fisico è proprio star bene rende cittadini migliori fare sport e le città migliori quindi questa rivoluzione che noi stiamo cercando di portare avanti migliorerà il paese il PNRR ci sta dando una mano ci darà una mano perché sono risorse ingenti che tendono a rendere le città più vivibili più fruibili i dati ci dicono che le città i cittadini vogliono dei servizi ma vogliono molte volte dei servizi legati allo sport questa di oggi è un primo passo una scommessa che stiamo credo vincendo ma insomma ancora la mattinata è lunga non rubo infatti tempo agli altri collegamenti e la cosa più importante è che abbiamo già una marea di città che vogliono aderire per l'anno prossimo e do un piccolo spoiler e alcune città europee che vogliono entrare quindi la rete si allarga si direte se facciamo un network faremo un network europeo rilanceremo alla grande e io vando un abbraccio veramente straordinariamente grande a tutti gli amici che hanno consentito che questo si potesse fare la passione di tanti amici in 18 città italiane che stanno realizzando ripeto un piccolo messaggio di ottimismo anche una diretta fatta così su facebook così complessa è un vero miracolo tutto siamo italiani sì certo ma lo sport è anche aggregazione e unione questo e oggi l'ha dimostrato quindi grazie per aver organizzato tutto questo grazie grazie anche a voi all'atleta per tutto quello che sta facendo eccoci eccoci qua Martina Martina giustamente ricordava rimpiangeva quel colorito bronzeo che aveva fino a 10 giorni fa è un attimo è l'area di Roma va bene giovedì prossimo giovedì prossimo non ci sono perché devo ripartire dai ah va bene no non è vero scherzo giovedì qua anzi chi non c'è povera mamma prende 5 kg s'inverno bene bene le minacce di Martina Procaccini che ricordiamo essere in ordine sparso radical chic sì una fan di Nanni Moretti allora ok allora questo è vero l'ultima non sono fan però apprezzo i film di Nanni Moretti non Star Wars come te e Nicolò Masini Masini perché stavo mi ingiorno è una crasi stavo facendo una crasi tra Mattia potremmo fare adesso faccio una sovrapposizione sei tipo quelle foto che sovrapponi i due volti scusate vabbè un po' ho letto un articolo non come non come Nicolò Masini me o altri milioni di persone nel mondo e nella storia però va bene non fa niente va bene ma degustibus non disputandum non disputandum disputandum ma non so eh e comunque la citazione la spieghiamo la la snoccioliamo perché erano estratti da commenti positivi devo dire quindi li prendiamo come positivi il commento di uno che ti dà della radical chic o no come l'hai presa ma io no guarda mi devo esprimere e ti devo esprimere aprimiamoci no mi ha fatto ridere mi ha fatto ridere perché non so poi in fondo a me non piace mai definirmi evidentemente un po' forse lo sono ma certamente non lo sono per il motivo che voleva intendere lui cioè aizzare la violenza negli stadi o il maschilismo perché perché prediette erano dei commenti all'articolo quello dedicato alla donna che appunto rasava l'erba durante la primo e secondo tempo allo stadio di genova tagliava che hanno cominciato l'erba si taglia che ho detto io si rasava che poi tu usava tu usava l'erba e io che ho detto rasava perché ti è venuto in lapsus perché in realtà martina procaccini voi non lo sapevate ma era nei distinti dello stadio di genova allora perché qui subumani allo stadio perché io adesso la dico così come la penso qui subumani dei tifosi dello stadio hanno cominciato a cantare un coro poco carino in cui usavano proprio questo verbo quindi mi è rimasto proprio qua per quanto mi ha fatto perdere le staff quindi ho scritto questo sfogo su atleta atleta news punto sport e i commenti erano proprio a quell'articolo quindi mi ha fatto incolerare c'è poco da fare quindi mi è venuto in mente il verbo però di fatto questa ragazza questa donna tagliava barra tosava l'erba del campo e hanno cominciato a fare questo coro sessista quindi insomma chi difende quei maschilisti e mi dà della radical chic sostanzialmente sai quel famoso detto quando l'offesa è no l'opinione è zero quando l'offesa è nulla quando l'opinione è zero questi sono i detti l'offesa è zero quando l'opinione è nulla quindi di quella persona l'opinione era nulla oh perfetto grazie Nicolò mi fa l'applauso ci siamo arrivati nel frattempo nel frattempo Vischio che ricordiamo sempre ha fatto studi classici madonna che bravo e non perde occasione ovviamente per vantarsene come si lo ripete sempre come chiunque abbia fatto studi classici si sono pieni di sé io ho fatto i linguistici Procaccini eh ma stiamo stiamo lì perché ho studiato il greco esatto però eh sono un sacco di sputandum i gusti va bene va bene va bene però vabbè chiedo bene quando c'è da segnare perché no vabbè oh ma non è che una sempre può dire le cose giuste voglio dire no dai io ho fatto il linguistico non sbaglio mai in inglese in spagnolo in francese l'issue son fait ok adesso quindi andiamo avanti con lo sports anzi lo sports city day perché adesso devo fare la pronuncia perfetta un po' in inglese perché se no ormai l'hai detto e anche perché voglio ricordare a Nicolò che io ho fatto l'Erasmus a Londra te lo ricordo non gliel'ho mai detto ah è vero non gliel'ho mai detto e quindi adesso io lo devo dire non è vero mi prendi in giro perché voi ragazzi dovete sapere che io qui cioè qui dentro sono tutti uomini contro di me no vabbè me la canto e me la suono dicevo che ho letto un articolo che le battute più divertenti su focus l'ho letto le battute più divertenti sono quelle che fanno ridere anche te stesso quindi io faccio delle battute e fanno tagliare perché io mi taglio con le mie battute va bene va bene poi fatemi sapere in chat se sono simpatica o no un articolo su focus a firma di Martina Procaccini sì esatto non è vero non è vero sei cattivo vedi vabbè comunque tornando allo sport city day sport city day perché uno solo era il 19 settembre ma ce ne saranno altri esatto magari andiamo anche in quelli di altre città perché cioè noi siamo a fila panfini cuore verde di Roma però andremo anche magari però era lo stesso sport city day il 19 di settembre era poi in contemporanea con tante altre da Catania sarebbe un altro po' del sole no vero vero la prossima volta ci facciamo ci facciamo invitare invitare a Catania e ci vai ci vai tu a Catania grazie ok va bene perfetto dalla regia fanno segni di no Nicolò ci porti te visto che me dice col treppiedi capito guarda che mi fa uscire proprio dal da Monteverde la fa uscire ecco no testa di polistirolo che sei carina testa di polistirolo è bellissima adesso ce la mettiamo come disclaimer sotto atleta new sport test di polistirolo che test di polistirolo no tornando alle parole di Fabio Pagliara che giustamente poi tornava sull'argomento che avevamo avevamo introdotto ma abbiamo visto anche qualche qualche immagine abbiamo visto come appunto lo sport delle di prossimità lo possiamo chiamare così lo sport praticato nei parchi nelle città nelle piazze delle nostre città sia effettivamente non solo di come si dice non giova solo agli sport e alle attività sportive ma anche alla salute stessa la salute pubblica perché proprio in un periodo in cui la salute pubblica è messa a rischio perché non sottolineare quanto lo sport rappresenti uno sgravio anche proprio anche in termini solo economici al sistema sanitario nazionale certo sgravio economico perché avere uno stile di vita sano si è tanto parlato anche appunto in merito in relazione al covid lo stile di vita sano comporta maggiore salute e quindi di conseguenza se ne parlava in termini di sgravio economico perché costa meno paradossalmente al sistema sanitario quindi insomma uno spunto veramente interessante e infatti c'è da dire che l'assessorato allo sport e alle politiche giovanili che adesso ha in mano di Veronica Tasciotti è molto presente molto attivo da questo punto di vista era presente anche lei che la mattina peraltro ha corso il primo chilometro della maratona che c'era lo stesso giorno e dopo è venuta lì a Villa Panfili facendo anche degli sport insomma infatti neanche troppo neanche troppo fiatone zero zero perché è un chilometro vabbè se non le metto a fare polemica che l'assessore vediamo l'intervista a Veronica Tasciotti eccoci siamo in collegamento da Villa Panfili dove si stanno divirtendo perché lo sport è anche divertimento oltre che benessere come è il messaggio che si vuole veicolare salve è con noi Veronica Tasciotti l'assessore allo sport del comune di Roma appunto è con noi e quindi questa Roma è protagonista dello sport quest'anno tantissimo con questa iniziativa che messaggio si vuole veicolare? intanto grazie per essere qui grazie per l'invito questa è una manifestazione importantissima perché fin dall'inizio questa amministrazione ha puntato molto sullo sport come stile di vita e sullo sport per tutti quindi siamo in un parco in un bellissimo parco e quindi qui si può praticare appunto lo sport per tutti per noi lo sport non è soltanto stile di vita sano ma è anche trasmissione di valori perché fin da bambini si insegna appunto il rispetto che è del compagno di squadra dell'avversario ma anche il rispetto dell'autorità dell'arbitro e una cosa molto bella che vedo qui è che si vedono anche degli sport considerati a volte non dico minori ma degli sport diversi da quelli canonici ed è importante avvicinare proprio la cittadinanza i bambini ma veramente tutti ai vari sport tra l'altro io stamattina vengo dalla maratona dove con la sindaca abbiamo percorso il primo chilometro e devo dire che Roma è ripartita anche grazie ai grandi eventi sportivi sia internazionali ma anche eventi come la maratona che sono eventi per tutti quindi come ha risposto infatti Roma e la cittadinanza a queste grandi iniziative che comunque l'hanno coinvolta ha risposto benissimo e fin dagli internazionali che sono stati il primo grande evento in presenza poi abbiamo avuto Piazza di Siena quindi veramente tante discipline gli europei di calcio dove abbiamo anche vinto quindi diciamo che Roma ha portato anche bene assolutamente sì adesso abbiamo appena terminato ieri la Longin Cup a Circo Massimo e abbiamo riportato un grandissimo evento all'interno della città in un luogo iconico e oggi siamo qui appunto siamo stati alla maratona e dobbiamo andare avanti così e mi auguro veramente oggi so che partecipano 19 città e mi auguro che dall'anno prossimo appunto le città partecipanti saranno ancora di più benissimo grazie mille grazie all'assessora Tasciotti quindi noi insomma ci siamo qui ci viviamo questa giornata di sport vuole aggiungere altro? noi volevo appunto ringraziare gli organizzatori perché queste queste iniziative per noi sono importantissime perché ci aiutano veramente ad amministrare anche dal punto di vista dell'avvicinamento allo sport la città quindi grazie sono un po' di parte poi con lei perché mi piace molto l'assessore Tasciotti anche se lì per lì non l'avevo riconosciuta ma perché non l'avevo mai avuto proprio non l'avevo mai vista devo dirti la verità no dal vivo perché poi lei è comunque diciamo nuova arrivata con gli europei subito dopo gli europei mi sembra sì è stata una di quelle a sostituire Frongia esatto è stato uno di quei passaggi un po' di consegne che nell'amministrazione raggi sono avvenuti esatto e quindi insomma mi perdonerà per questo ma invece mi piace molto sia per le iniziative che insomma che prende che fa quanto è attiva come ho già detto e sia perché insomma mi piace sì sì questa cosa ricordiamo assessore allo sport uscente visto che a breve ci saranno altre 4 si poteranno uscente anche in caso poi che venga confermata l'aggiunta bene Vischio che è grande fan che è grande fan Vischio non lo dirà mai ma lo sappiamo tutti Virginia la corsa in groppa al cinghiale la maratona anche per fare un po' di polemica sì un pochino di polemica politica d'altronde Vischio ricordiamo che abita Vischio Roma nordino Roma nordista Roma nordista vive proprio nelle zone dove i cinghiali fanno da padroni e quindi insomma ne risente di più chiaramente io ci sono vicina perché io ci lavoro anche in quelle zone quindi ci sono veramente vicina detto questo Vischio abbiamo visto l'assessore che si cimentava con il pentatron con una parte della disciplina del pentatron che prevede appunto la corsa e poi il il tiro esatto e lei faceva il tiro e lei ha fatto si è cimentata non è stata non è stata l'unica in realtà era una devo dire delle attrazioni possiamo chiamarle così più gettonate più gettonate vabbè però noi stiamo parlando di lei abbiamo vista vicino a quei campioni che abbiamo intervistato anche loro che sono stati campioni europei addirittura una è stata anche a Tokyo due campioni europei due campioni europei è una esatto la donna peraltro scusate fatemelo dire ci tengo piccola parentesi vediamo ok abbiamo con noi Mattia campionato campione scusami del campionato europeo di staffetta abbiamo vinto io Mattia Parisi e Roberto Michele abbiamo vinto il campionato europeo staffetta quest'anno 2021 ecco ci stanno raggiungendo anche gli altri volete venire? ci stringiamo ci stringiamo siamo tutti insieme allora abbiamo Mattia poi abbiamo Elena Roberto Roberto allora sono campioni due ragazzi campioni europei di staffetta e abbiamo anche una Tokyo direttamente da Tokyo una campionessa olimpica e insomma lo sport è anche raccontato è anche racconto vogliamo raccontarlo il pentathlon? sì allora consiste in cinque discipline nuoto corsa scherma guidazione e tiro con la pistola diciamo che abbiamo iniziato tutti quanti da piccoli perché comunque è uno sport abbastanza complesso va curato sin dall'inizio e io ho iniziato anche abbastanza tardi a 15 anni loro sicuramente un po' più giovani di me e facciamo allenamenti tutti i giorni tutta la settimana e ogni giorno facciamo tre sport più o meno e poi diciamo la settimana è gestita in base a quello che ci dicono di fare gli allenatori sono sono sport complessi tutti quanti e farli tutti e cinque non è semplice però diciamo con le giuste accortezze riusciamo a trovare una via di mezzo e cerchiamo di andare forte in tutti quanti bene abbiamo visto prima un po' la performance che avete fatto a dimostrazione del fatto che non servono grandi sovrastrutture per lo sport possiamo farlo ovunque io ti passo non voglio passare avanti agli altri quindi parlo con te lo sport si può veramente praticare ovunque assolutamente questo è il bello è questo è il bello perché basta un parco come questo dove passano tutti tutti i passanti possono ammirare incuriosirsi provare anche e quindi è uno strumento utile per socializzare oltre che per mostrare anche vari tipi di sport che non avrebbero molta risonanza in altre situazioni quindi è bello perché si può fare veramente dappertutto può entrare proprio nelle case della gente esatto questo è un aspetto molto importante di coinvolgere anche le persone in sport che vengono considerati secondari secondari non lo sono ma è soltanto un problema di coinvolgimento di risonanza esatto e quindi questo serve anche a fare risonanza Tokyo che emozione è stata? Tokyo è stata un'emozione enorme penso una di quelle che nella vita non si dimenticano che porterò con me perché sarà da esempio per il mio bagaglio d'atleta e spero che sia l'obiettivo per ognuno di noi in particolar modo Parigi ma comunque in generale l'evento olimpico perché è il sogno di ogni atleta è stata particolare perché a porte chiuse senza il pubblico è stata un'olimpiade diversa però l'aria che si respira lì dentro dentro il villaggio dentro le strutture comunque durante la gara è sempre è sempre meravigliosa è unica quindi l'emozione è sempre sì sì è sempre fortissima è sempre un'emozione fortissima e insomma da Tokyo a Villa Panfili per un messaggio di sport e di benessere che è quello che vogliamo veicolare oggi qui con noi abbiamo anche posso scusate passo avanti spero di non uscire ti puoi presentare allora io sono Claudia Cesarini è pentata all'olimpionica di Londra 2012 e Rio 2016 oggi sono qui per aiutare diciamo a conoscere questo sport e tramite tre atleti eccezionali e quindi mi sono abbassati loro e sono molto contenta e soprattutto ringrazio la fondazione Sport City Fabio Pagliara al suo presidente e Vincenzo Corso il presidente di Libertas per averci consentito di farci conoscere e per noi è importantissimo perché purtroppo la nostra visibilità è solamente durante l'evento olimpico quindi abbiamo visto tanti giovani che si sono avvicinati e volevano provare e per noi veramente è un orgoglio siamo contentissimi ed è una dimostrazione che lo sport è benessere lo sport fa bene a tutti i livelli e quindi anche la nostra disciplina è la Serran basta veramente poco per allestirla quindi ha impatto zero sull'ambiente quindi si può fare dovunque ed era quello che appunto il messaggio che ci stava dando anche lui Roberto appunto che è quello di risonanza è una questione di risonanza non serve Tokyo ma basta anche una villa esatto tanta buona volontà esatto grazie mille ragazzi grazie a voi e insomma in bocca al luo per le prossime per le prossime avventure sportive grazie grazie ciao eccoci qua in chiusura Claudia Cesarini che appunto quindi abbiamo avuto un atleta di Tokyo 2021 e poi un atleta dei Olimpiadi Passate che è lei di Londra 2012 Londra e Londra 2012 e Rio 2016 e adesso invece si occupa proprio del del team di Pentathlon italiano proprio perché poi anche questo è da riportare gli atleti che a fine alla fine della loro carriera comunque rimangono nell'ambito sportivo per aiutare i giovani le nuove leve le nuove leve infatti insomma loro adesso obiettivo Parigi 2024 l'obiettivo l'obiettivo è quello anche poi Parigi 2024 avrà tantissime novità che ovviamente noi saremo qui a raccontare ovvio storytelling che anno è che siamo che anno che anno 2021 ne mancano altri tre chissà chissà veramente guarda veramente magari Nicolossi è fidanzato sì chissà magari si sarà magari anche io magari anche Martina Procaccini mi sono sposata capito no non ci interessa né a me né a Nicolò no ma Nicolò dice che non mi frega niente ma perché devo parlare di Nicolò per farlo un po' arrabbiare perché potete sapere che va bene va bene un'ottima idea questa ok prossimo talk su Nicolò scriveteci in chat se volete scrivete in chat soprattutto se volete che Martina Procaccini non sia più interessata a fidanzarsi da qui al 2024 eh vabbè no vediamo di no dai fino al 2024 no l'hai detto tu l'hai detto tu è registrato è live on twitch quindi ecco qua rimarrà rimarrà devo diventare grande quindi dai adesso un fidanzato lo dovrò trovare ecco quindi va bene sono aperte le selezioni adesso bravissimo ok facciamo anche un po' un uomini e donne per diventare tronista siamo direttori metti in mezzo per diventare tronista va bene allora direi che siamo giunti al termine di questa prima ricchissima puntata della Teletalk abbiamo parlato di sparsiti abbiamo parlato delle paralimpiade abbiamo visto le interviste abbiamo parlato soprattutto di tutte le novità e l'unica novità è ma lo conosci il palinzesto nuovo di Atleta TV ma magari me lo dici guarda ma magari me lo voglio proprio sapere a Montevideo si dice Paragula? Paragnosta siamo più educati certo siete più alti siete lì sul cucuzolo siamo sul monte no esatto perché Atletalk è il format che si rinnova dall'anno scorso con tante novità ma ci sono anche format nuovi innanzitutto partiamo dalle conferme Studio League che andrà in onda domani ore 15 qui con Francesco Deugemo Lombardo Andrea Buzzao Vischio il nostro moderatore dalla chat che nel frattempo salutiamo così ce lo risparmiamo risparmiamo per dopo ciao mazza così saluto ciao il saluto all'italiana lo parlano in tutto il mondo e la novità invece di quest'anno di di Studio League che è Emanuele Di Vella in arte Revilveig grandissimo scusate l'entusiasmo diverso ma Revil è troppo un mio prediletto ciao Revil esatto e potete trovare tutte queste informazioni scrivendo punto esclamativo schedule sulla chat vi appare tutto il nostro il nostro programma e cosa? no è proprio grazie per correggermi la pronuncia inglese grazie lunedì lunedì ore 12 e 30 qui per MMA lunch invece con Roberto e Augusto che vi racconteranno le novità del Mixal Martial 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 intervistato anche adesso i nomi Daniele Scatizzi eccolo qua Daniele Scatizzi che è uno degli atleti italiani del panorama internazionale dell'MMA chissà se lo riavremo presto ai nostri microfoni presto no perché ha un incontro a breve ASAP è in ritiro è in ritiro sì va bene finiamola con questa appena possibile appena possibile sarà di nuovo con noi ma in lunedì nel frattempo non perdetevi i due giovani che non sono solo esperti di MMA quindi vi sapranno dire illustrare far conoscere capire meglio un po' questo questo panorama ma poi mangeranno mangiano è perché a pranzo giustamente il programma si chiama MMA lunch e quindi mangiano ok beh beati loro per essere così è un elemento di interesse wow che ti fosse interessato mi interessa moltissimo mentre il mercoledì infatti ieri c'è stata la prima puntata di Futsal Arena che è invece il nostro nuovo format verticale come dicono quelli che hanno studiato ok verticale sul Futsal ovvero il calcio a 5 con un focus ovviamente sul nostro campionato di serie A andremo a seguire il dietro le quinte gli allenamenti le amichevoli le partite in casa del del Ciampino Niene che è uno dei club di serie A uno dei tre club romani in in serie A nel Futsal il Ciampino Niene ovviamente gioca Ciampino che teoricamente non sarebbe Roma ma insomma per i pignoli sarebbe Roma per i pignoli non sarebbe Roma perché insomma se Ciampino non sarebbe Roma l'ho detto alla romana madonna su dai i pignoli sarebbe Roma perché se Ciampino non è Roma l'inglese io ti ricorrego l'italiano però perché sei pesante per i pignoli per i pignoli non sarebbe Roma esatto questa è carina come pensa il mio primo fidanzato lo faceva posso raccontare questo aneddoto mio ma certo io facevo figurate io facevo la romanaccia apposta e lui mi faceva ridere perché mi faceva ridere e faceva la traduzione italiana di questa cosa cinque anni comunque è una storia una pazienza Martina Procaccini allora io facevo la romana i pignoli non sarebbe Roma e lui per i pignoli non sarebbe Roma hai capito Vischio ci clippa comunque ci clippa Martina vabbè ma però questo titolo perché però ti sei messo solo tu la chat scusate ma io questa cosa la denuncio la denuncio non so quale parte Martina infame per te solo lame no no questa incitazione questa incitazione alla violenza alla violenza Vischio poi Twitch ci banna per la vita da te proprio guarda non me lo aspettavo aia grazie Mario il figo se vuoi difendermi esatto stavamo parlando di cose serie perché stavamo parlando di Fuzz all'arena in cui Marco Di Cola il nostro un altro redattore di atleta news punto sport perché mica c'è solo Martina Procaccini per fortuna direbbe qualcuno insomma ovviamente però Marco Di Cola che è il nostro esperto di calcio a 11 a 8 a 5 a 7 a quelli che a quelli che volete però ci guiderà invece lui mano per mano nel conoscere il futsal il calcio a 5 le squadre del nostro campionato e la nostra nazionale perché ci avvicineremo con queste puntate piano piano la faccia me complimento me complimento per tutto sto lavoro proprio sto contenta per far far sfilare dovevamo arrivare a dirlo e vabbè si sapeva dai comunque il frattempo voglio ringraziare Mario Il Figo che mi sta difendendo quando vuoi Vischio cattivo e Vischio io ho Mario Il Figo che mi difende ma anche Kindred Maxi secondo me mi difende ciao Kindred ben trovato ben trovato ben tornato tra noi dicevo no è il mio fan mio primo e unico fan è unico per adesso vabbè dai piano piano ci sapevo puoi iscriverti se vuoi alle selezioni per il fidanzato di Martina Prodaccini e poi tra il palinzesto ci sarà anche troviamo un fidanzato per Martina diventerò la tronista e tan tan quello sarà un altro sarà un altro canale di cui non possiamo fare spoiler però ci riflettiamo ci riflettiamo le faremo sapere come si dice di solito ai colloqui di lavoro dicevo comunque prima che mi interrompessero Futsal Arena che ci condurrà piano piano verso gennaio e poi per tutta la stagione del campionato ma gennaio dove la nazionale di calcio a 5 italiana giocherà gli europei ok giocherà gli europei di di Futsal e chissà se la coda lunga dei successi azzurri non si protragga anche a gennaio per il Futsal e per la squadra di mister Massimiliano Bellarte che è alla guida della della nazionale abbiamo quindi esplorato più o meno tutte le le novità per adesso le novità fino ad adesso il giorno peggiore della tua vita fino adesso va bene ce ne saranno sicuramente delle altre come ci sarà se ti stessi facendo piedino scusate invece no vabbè tanto te lo trovo fidanzato quindi come sto facendo piedino t'alleni almeno comunque pure veri di poco ce n'è che mi sembri fidanzato no nel senso non trovavo una fidanzata sai quando lavamo sei panni in casa propria si dicevano come no per me quello che ti pare ma perché c'è quella con cui c'è una frequentazione è sicuro che poi gli iscrive dischiomi clip anche questa per favore no no è fidanzatissimo l'ha appena detto prima 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 hai detto sono fidanzato so proprio va bene va bene è iniziata è iniziata benissimo non vedo l'ora di essere qui pensa alla fine pensa come arriviamo ad agosto quest'anno mamma mia vabbè dai ne vedremo delle belle ne vedremo delle belle non vedo l'ora personalmente di essere qui accanto a Martina Procaccini anche la prossima settimana per la Teletalk giovedì ore 19 puntuali puntualissimi come sempre parcheggio permettendo ma io tanto mi affiderò al buon Nico e al buon Giulio che mi troveranno parcheggio in casa del direttore e insomma prossimo giovedì ore 19 con Giulio Gezzi e Martina Procaccini grazie ciao aspetta era un po' che non lo dicevi Mattia ah Mattia che tutto vede tutto tocca bentornato grazie anche sempre a chi è dietro di fronte a noi Mattia Mingione Mattia che tutto vede tutto tocca e Niccolò Massini che abbiamo citato più di una volta oppure Niccolò Mingione Mattia Masini se volete fare la crasi che ho fatto prima Andrea Buzzao Vischio moderatore Vischio moderatore dalla chat e quindi che è un gran furbo perché comunque tu prima hai detto guarda il Cibanna e lui ha detto è tutto attaccato Martina infame per te solo lame Twitch non ci sgama so che Martina è affezionato al linguaggio da stadio sì va bene ok Vischio tantora devo venire di là non ti preoccupare arriviamo arriviamo Vischio Mattia possiamo chiudere tutto ciao ciao